Bravissima, bravissima. Allora, eh... Bis, 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 bis. Grazie, grazie, Giulio. Magari ci vediamo, ci vediamo nel... Presto? Sul finale. Sul finale? Eh, sì, eh... Ma quella ginetta, cosa vuoi? Ma cosa vuoi? No, sai cosa lei dice? È il mio momento. No, non è una mancanza. Un camè! Sentivo di essere cacciata. No, va bene. No, scusa. Dopo queste meravigliose sedizioni, non tocca a me! Eh... Ancora no! No, perché giustamente... Parlo mia, tengo la borsetta per dopo, per l'altro lavoro che lo faccio a piedi, scusa. Eh, va bene, sì. Ciao, arrivederci. No, vieni qua. No, vieni qua. Perché so che tu hai... Scusate, posso fare una cosa? Sì. Anche a nome di tutti i telespettatori, visto che è la terza puntata, e visto che questa esibizione della signora Russo ci ha un po' tutte commosse, allora io mi inginocchio come tutti i telespettatori davanti a tanto talento. Oh, amore, grazie! Questa è una cosa molto bella per... Adesso se ci fosse un vigile a tirarvi su, ne sarei anche lieta, grazie. Adesso tirarti su, patinete, è una tragedia. Non è male che non abbiamo chiamato la protezione civile, no, questa sera. Va bene, a dopo. No, no, scusa, eh, dimmi, cara. Scusa, però, vediamo sul finale. No, no, lo devo dire. Sì. Dovevamo cantare una canzone della Rodriguez. Sì. Che fine ha fatto? Io non l'ho provata. No, no, è perché... È che tu non vuoi cantare con me. No, è che il portoghese... È come un po' l'inglese, sembra un po' romagnolo. Ho avuto qualche problema nel... Perché non facciamo una cosettina così, improvvisata, proprio? Di cosa nostra. Sì, napoletana. Ah, ecco, hai capito. Così, a cappella, come si dice. È veramente improvvisata, eh, diciamolo. No, ma non voglio perdere l'occasione di cantare con te. Dai. Come bella montagna è strano Bella così Nulla già vista Nonna me pare La signata è stanca Sotto a coperta E questa luna Tu che non chiami, chiami E me vai Tu stanotte Voglia a te Voglia a te Che sto che te vanno Nonna te vorrà Ora sì Bravissime 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 Bene, grazie E a Giulia Russo È stata meravigliosa Tra punto mi dissocio Vi lascio fra voi di Ve litigate bene Ciao, ciao Grazie, cara Grazie Grazie